Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Romina Carri si svela al pubblico un suo segreto con una foto su Instagram La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l'ultimo bacio Ecco cosa è successo.Un personaggio seguitissimo sui social, che proprio sul suo profilo Instagram ha suscitato molta apprezzione e curiosità, a causa di una foto che la ritraeva Giudi Morale Ecco cosa ha confessato Romina Carri si. I suoi followers si sono preoccupati per lei Stiamo parlando di Romina Carri si, che ricordiamo tutti sempre con il sorriso sulle labbra Ultimamente, durante una vacanza, ha reso pubblico uno scatto che ha destabilizzato il pubblico e che è stato spunto di riflessione profonda e condivisioni con i suoi followers La figlia d'arte, ospite fissa nel programma della sua amica Serena Bortone, oggi è un altro giorno, ha commentato uno spiacevole episodio, accaduto improvvisamente mentre nuotava tranquillamente in mare Con una didascalia molto toccante la mia cara vecchia amica anzi ha deciso di aggiungermi nel bel mezzo della mia traversata e farmi compagnia con i suoi dolci artigli graffiando la mia mente e accorciando il mio respiro, ha scritto accompagnando l'immagine che immortalava quel momento Da anni combatte con questo problema. La spiegazione del post che ha fatto preoccupare tutti Annegherai. Perderai fiato e annegherai. Non vedi né il fondale, né davanti a te E giunta la tua fine, non arriverai mai con queste parole Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, ha svelato di soffrire di attacchi di ansia Un problema comune, reso più che normale anche grazie anche a questi racconti La mia ansia è schietta. Non ha mai fatto la ruota panoramica con le parole La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l'ultimo bacio Presto tornerà in tv e anche la sua vita sentimentale con il regista Stefano Rastelli procede a gonfie belle Si trovava con lui in vacanza, infatti, quando la sua ansia l'ha travolta per l'ennesima volta Una brutta esperienza, quindi, per la giovane, che ha imparato a conviverci, senza limitarsi mai Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video